Ciao a tutti, in questo video vi parlo dei pronomi dimostrativi, anche i pronomi si accordano in genere, numero e caso con i sostantivi a cui si riferiscono e anche qui ci sono le declinazioni. Allora, i pronomi dimostrativi singolari al maschile sono etot, questo, tot, quello, etot e tot, però si dice etat, etat e tot. E nel femminile invece età, 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 questa, ta, quella, età, ta, neutro, eto, questo, to, quello, anche qui non si dice eto ma si dice età, età, to. Qui c'è la differenza che è accusativo a due forme, animato e inanimato. E così le declinazioni cambiano. Vi dico come si leggono e vi dico anche come si scrivono, perché se no non si capisce bene e poi vi scrivo anche sotto. Declinazioni dei pronomi dimostrativi etot, eto ed età, etat, età, età. Nominativo etat, età, etot, eto, questo. Genitivo si scrive eto go, va si dice etava, di questo. Dativo si scrive etomu, va si dice etamu, a questo. Accusativo animato eto go, va si dice etava, questo. Inanimato etat, età, però si dice, si scrive etot, eto, questo. Strumentale etim con questo. prepositivo ob eto, a proposito di questo. Ma si dice ab etam. Quindi qui la difficoltà è che le o cambiano e diventano la a. Singolare femminile età, questa. Come si scrive e si dice uguale età? Nominativo età, questa. Genitivo etoi, ma si dice etai, di questa. Dativo sempre etoi, ma si dice etai, a questa. Accusativo etu, questa. Strumentale etoi con questa, ma si dice etai. Prepositivo ob etoi, a proposito di questa, ma si dice ab etai. Plurale maschile neutro e femminile. Eti, questi, queste. Nominativo eti, questi, queste. Genitivo etich, di questi, di queste. Dativo etim, a questi, a queste. Accusativo animato etich, questi, queste. Inanimato eti, questi, queste. Strumentale etimi, con questi, con queste. Prepositivo ob etich, a proposito di questi, a proposito di queste. Ma si dice ab etich. La declinazione del pronome dimostrativo tot, to, ta, cioè quello, quella, è molto simile a etot, eto, eta. Vediamoli. Singolare maschile e neutro è uguale. Tot, to, quello. Nominativo tot, to, quello. Genitivo togo, di quello, ma si dice tavo. Dattivo tomu, a quello, ma si dice tamu. Accusativo animato togo, quello, ma si dice tavo. Inanimato tot, to, quello, si dice sempre uguale. Tot, to. Strumentale tiem, con quello, prepositivo otom, a proposito di quello, si dice atom. Singolare femminile ta, quella. Nominativo ta, quella. Genitivo toi, di quella. Dattivo toi, a quella. Accusativo tu, quella. Strumentale toi, con quella. Prepositivo a, toi, a proposito di quella, ma si scrive o, toi. Plurale maschile, neutro e femminile è sempre uguale. Tie, quelli, quelle. Nominativo tie, quelli, quelle. Genitivo tie, di quelli, di quelle. Dattivo tiem, a quelli, a quelle. Accusativo animati, tie, quelli, quelle. Inanimato tie, quelli, quelle. Strumentale tie, mi, con quelli, con quelle. Prepositivo o, tie, a proposito di quelli, a proposito di quelle, ma si dice a, tie. Così sembra abbastanza difficile. Vi faccio degli esempi per farvi vedere che bisogna fare molta pratica per ricordarli tutti. Però l'importante è ricordarseli animato o inanimato oggetto e ricordarseli che è il prepositivo o si legge sempre come la a. Faccio qualche esempio. Eta director, questo è il direttore. Eta directorà, questi sono i direttori. Qui cambia l'accento in base al singolare o plurale. Nel plurale cambia poi l'accento. Eta akno, questa è una finestra. Eta okna, queste sono finestre. Ta dievushka, quella ragazza. Te dievushki, quelle ragazze. Tot telefon, quello telefono. Te telefoni, quelli telefoni. Il proverbio di oggi è Kto iscit, tot naijot. Chi cerca trova. Kto iscit, tot naijot. Grazie per l'attenzione. Spero che questo video un po' complicato vi sia stato utile. Se avete qualche domanda scrivetelo nei commenti. Se avete qualche idea, qualche cosa e non vi torna scrivetelo sempre nei commenti o sul mio profilo Instagram. Vi auguro una buona giornata. Grazie per l'attenzione. Spasibo e do svidani. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.